Dal 2006 a Fano si parla di enogastronomia, di qualità, di produttori, pionieri ed ambasciatori del gusto e delle tradizioni locali e di tecnologia applicata. Una città da gustare è una manifestazione che potremmo definire sui generis rispetto al consolidato panorama di manifestazioni imperniate sul cibo e sulle eccellenze territoriali. L'approccio sia degli organizzatori, ambasciatore territoriale dell'enogastronomia e IS e del comitato scientifico è stato quello più divulgativo e di approfondimento delle tematiche connesse al cibo. Una città da gustare dal 25 al 28 settembre a Fano è un carosello di incontri, conferenze e dibattiti che vanno dai pionieri del biologico nel territorio come la cooperativa Giro Lomoni ad aspetti e dalle implicazioni nutrizionali del cibo ma anche attraverso la formazione professionale e l'artenanza scuola lavoro. No, abbiamo pensato che fosse giunto il momento di studiare quelle che sono le ricchezze che noi abbiamo sul nostro territorio dal punto di vista enogastronomico. È vero, verissimo che noi potremmo essere tutti occupati nel settore del turismo, dell'accoglienza, dell'enogastronomia se sapessimo sfruttare al meglio le ricchezze che abbiamo. All'interno della manifestazione è presente da sempre anche un premio, ambasciatore territoriale dell'anno, che va assegnato a chi si è particolarmente distinto nella promozione territoriale. All'inizio avevamo istituito un corso all'Istituto Alberghio di Pesaro insieme alla Università di Urbino, un corso di alta formazione che ha diplomato 15 ragazzi che poi si sono distinti per aver promosso i prodotti del nostro territorio fuori dai confini. Ma un aspetto vincente di questo evento è l'aver messo in contatto due mondi all'apparenza opposti, l'agricoltura, la terra, il campo con l'automazione e la robotica. Due mondi che si stanno avvicinando sempre di più ed una velocità doppia rispetto al passato, dove già si parla di agricoltura 4.0. che utilizza l'industria. Ad esempio si parla di agricoltura di precisione, si parla di internet delle cose, di intelligenza artificiale, di robotica, di droni, di sensori e così via. Praticamente tramite dei satelliti e dei droni si possono fare delle immagini del suolo, verificare quali sono le parti del suolo più fertile e quindi dopo costruire delle mappe di prescrizione che si è immesse in una centralina di una macchina agricola, la quale può essere un trattore, che tra parentesi può essere anche un trattore a guida autonoma. La macchina va avanti ed eroga più o meno acqua, risorsa idrica, fertilizzante, concime e così via. Quindi è un'agricoltura di precisione.